Sono convinto che sarà una bellissima festa. L'amministrazione ha delineato, ha tracciato le linee che si dovranno seguire durante questi giorni di festività a Pagani. Ha annunciato l'apertura insieme alle autorità religiose e l'arci confraternita del santuario venerdì sera. Ci saranno anche le telecamere di Telenuovo che racconteranno a quanti sono interessati, a quanti vogliono vedere tutta la manifestazione. Un anno particolare, come tutti ben sappiamo, è un nuovo inizio post-pandemico, ma anche da un punto di vista religioso, per quanto detto dal Vescovo e dalla Curia, per cui senza una processione, ma comunque la festa civile di cui oggi parliamo sarà tenuta, ovviamente senza sottacere che ci saranno anche quattro messe all'aperto. Il piano dell'amministrazione, sia emergenziale, sia da un punto di vista proprio di festa civile, è pronto. Ci saranno 21 toselli, per cui la devozione anche quest'anno va rispettata, ci sarà anche un tosello istituzionale, ci sarà il concerto del 25 con Enzo Avitabile, mi sono assunto una grossa responsabilità, per cui io direi che come città di Pagani ci faremo trovare pronti, dovremmo farci trovare pronti. Poi per i chiarimenti, eventualmente anche parlare per il futuro, lo posticipiamo dopo la festa, dopo che la festa sarà andata bene. L'appuntamento lo diamo il venerdì, venerdì ovviamente alle 18 per la classica apertura delle porte del santuario, e poi la domenica per le funzioni religiose. Poi ci sono tutte iniziative laiche, civili, a cui non si dovrà mancare, e poi appuntamenti per i balli nella città di Pagani e per il concerto finale. È una bella sfida, effettivamente si riprende dopo tempo, le persone sgomitano e quindi saranno tantissime che parteciperanno, però noi ce l'abbiamo messa tutta affinché tutto proceda bene, con tutte le forze dell'ordine. Io confido nel popolo paganese. E' un popolo paganese? Invitiamo il popolo paganese a dimostrare quello che è, che è sempre stato, che è un popolo di persone per bene, che rispetta la Madonna, che vuole bene la Madonna, in quanto tale si comporterà da persona per bene. Tra le tante, diciamo, tra le iniziative che abbiamo pensato per riempire queste tre giornate in città, quindi venerdì, sabato e domenica, nonché lunedì, abbiamo pensato anche con l'assessore Longobucco, anche con il presidente della Commissione Cultura Anna Maresca, insomma questo è sempre un lavoro di energie messe insieme, e devo dire che questo non manca in questa amministrazione, la solidarietà è l'aiuto reciproco, nonché il mettersi a disposizione della, abbiamo pensato anche appunto di coinvolgere le scuole, sottolineando l'importanza di quella che è l'identità innanzitutto territoriale e comunale, prima di diventare i cittadini del mondo, perché ormai in una società in cui si sottolinea tanto l'importanza delle competenze chiave europee, bisogna innanzitutto sottolineare l'importanza della competenza dell'essere cittadino, in questo caso Paganese. Questa città, al di là di quelle che sono le iniziative, ha tanto da offrire a chi viene, davvero basta passeggiare, io l'ho fatto, ho avuto il piacere di farlo contente tra le strade della città per ammirare le tante bellezze che ci sono, nonché le tante risorse anche umane, devo fare un ringraziamento particolare ai Tosellanti e alle associazioni del territorio, che comunque si sono fatti portavoce a ognuno di loro delle esigenze e hanno dimostrato ancora una volta l'amore che nutrono verso questa città. Grazie a tutti.